Sono stati tutti assolti con formula piena gli imputati del processo sui maxi rimborsi elettorali, sette i politici piacentini coinvolti, che come contestato dalle fiamme gialle dovevano rispondere di presunte violazioni della legge sul finanziamento illecito ai partiti. La vicenda si riferisce alle elezioni per le primarie del PD nel 2012 e alle elezioni regionali sempre di quell'anno. Grande soddisfazione da parte degli imputati assolti, l'amministratore unico della Biomedica Bruno Giglio e la commercialista dell'azienda Anna Zambarbieri. Per il PD erano imputati l'ex vice sindaco Francesco Cacciatore, il consigliere regionale Marco Carini, ma anche Piera Marchi, Paolo Rezzoagli, Marcellina Anselmi e Sergio Briganti per il PDL, l'ex consigliere regionale Andrea. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dal PM Colonna, aveva però toccato varie regioni italiane. Le ipotesi di reato riguardavano anche un'altra ventina di persone. La presunta violazione, secondo l'ipotesi iniziale della Procura, riguardava una serie di bonifici e la mancata delibera dei contributi da parte del Consiglio d'amministrazione dell'azienda biomedica, delibera che la legge sul finanziamento ai partiti considera obbligatoria.